Oggi parliamo di ArsLab, un nuovo progetto ideato dalla Fondazione Italiana Accenture insieme all'Associazione di More Storiche Italiane che si ispira e si basa su il piano alternanza scuola lavoro del Ministero della Pubblica Istruzione. Si tratta di portare nuove competenze e nuove conoscenze ai ragazzi dei licei di studi tecnici durante il corso del terzo anno e del quarto anno. Portiamo a loro un'attenzione sul territorio, sulla valorizzazione del territorio, su tematiche di marketing territoriale e di turismo esperienziale. Il primo progetto l'abbiamo tenuto in Monferrato e precisamente a Casale Monferrato, presso l'Istituto Tecnico Leardi. Una classe è stata coinvolta nel progetto, una ventina di studenti hanno quindi partecipato e a loro sono state impartite diciamo lezioni e training on the job sia in aula che presso il palazzo La Dimora Storica in oggetto. Questa dimora storica è il palazzo Gozzani Treville che si trova molto vicino peraltro all'Istituto Tecnico che gli studenti frequentano ogni giorno e che per la maggior parte erano ignari dell'esistenza di questa meravigliosa opera d'arte, di questo meraviglioso palazzo. Il palazzo stesso è anche la sede dell'Associazione Trame di Monferrato con la quale si è operato per mettere in piedi questa iniziativa pilota sul territorio. In questa settimana di lavoro di circa 40 ore i ragazzi sono stati accompagnati da docenti e da professori che li hanno portati attraverso queste nuove materie di studio ma soprattutto di pratica. Nello specifico hanno lavorato all'ideazione di un evento promozionale di rilancio del palazzo Gozzani Treville. Hanno poi avuto l'opportunità di presentare nei diversi gruppi davanti a una giuria competente i loro progetti e ha vinto il migliore. Come va avanti questo progetto? Per i ragazzi proprio di Casale Monferrato adesso ci sarà l'opportunità di completare la loro esperienza di alternanza scuola-lavoro con uno stage. Gli stage saranno messi a disposizione di diversi stakeholders del territorio che hanno in qualche modo partecipato sia al programma Arts Lab o che comunque circondano un po' le iniziative di Trame di Monferrato, del palazzo Gozzani Treville e del territorio stesso.